San Giovanni Capice, Pesaro, Ancuna, San Benedetto del Brutto, Pescara Centrale, Devoli, Foggia, Arletta, Bari Centrale, Gioia del Cone Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono nella stazione di Roffier a Milano e prenderò il treno Regi Express per Porto Ceresio che c'è una bellissima pilota che vedo anche in Liguria dove vado al mare io e è una bellissima carrozza non l'ho mai preso ma spero di prenderla prima o poi perché adesso stanno iniziando a mettere i Roffier sulla Torino Porta Nuova a Milano Centrale e quindi sarà ancora più difficile prenderli comunque con il Caravaggio che dicevo prima per Domodossola questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, attivare la campanella, commentare e noi ci vediamo al prossimo video adesso sto salendo sul Caravaggio per andare verso Porto Ceresio buone feste!